lotta con le castagne, passaggio di castagne, nuovo sport olimpico aspetta due adesso, due cos'è? non l'ho neanche ripreso dai va a prenderlo c'ho questa ma questa me la tengo questa la devo portare da mia nonna adesso me la metto nella tasca dietro occhio è strascicata non c'è più è morta l'altra cos'è? non si capisce niente no dai jippy non puoi prenderla di culo e cos'è quel passaggio lì? mi cacchio davanti mi cacchio davanti mi cacchio davanti aspetta aspetta vai eh guardate i giochetti di luca con le castagne nooo si ma perchè io riprendo da altra parte quando la castagne ferma oh come è? è una stagia guardate jippy che va a recuperare la castagna non si entra liy jippy fuga 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 si 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 Ehi, gli Harlem Globetrotters, fide, delle castagne. I Globetrotters. Ah, fighe del mio, fide. I Globetrotters delle castagne, fide. È finito il video, non c'è più spazio. Figo, fai un po', dai. Forse ce la passano un po' di video. È qua.